Mi sembra evidente che la lettura che può dare un architetto è una lettura molto diversa da quella affrontata da altre discipline. Ma credo che forse proprio attraverso quest'ottica io ho scelto di portare una serie di ragionamenti attorno alla città che sono propri alla mia disciplina lasciando perdere gli elementi collaterali o di interpretazione solo come è stato fatto da Roncaglia precedentemente e di mirare all'elemento strutturale della città. Noi dobbiamo, la nostra generazione credo che debba interrogarsi su questo patrimonio straordinario la città. Io credo che nella storia dell'umanità la città è il bene estremo che ci è stato dato. Nella città noi riconosciamo la nostra identità, riconosciamo noi stessi, riconosciamo i popoli estinti e la città continua a parlarci soprattutto dei popoli estinti. Noi andiamo nelle città per incontrare ovviamente dei servizi, ma questi sono elementi tecnici funzionali, ma di fatto noi cerchiamo la memoria del nostro essere, parte dell'umanità. E la città è l'espressione formale di una storia che non ci appartiene direttamente, ma che è una storia nella quale indirettamente ci siamo configurati, in questo caso, nel caso dell'Europa, di una cultura occidentale che ci appartiene. Allora la prima osservazione che voglio fare è che da pochissimo tempo, si tratta di uno spazio unicamente di qualche anno, abbiamo registrato come la maggioranza della popolazione mondiale, quindi oltre 3 miliardi e mezzo, non abiti più nello sconfinato territorio delle campagne, ma si concentri negli spazi ridotti delle aree metropolitane e dei contesti urbani. È da qualche semestre, da qualche anno, che vi è stato questo proveciamento delle parti. Questo cosa vuol dire? Che la maggior parte della popolazione mondiale preferisce vivere in città, malgrado gli evidenti conflitti e gli squilibri ambientali, stravolgendo in tal modo gli assetti che finora la storia intera dell'umanità aveva visto, dove aveva visto prevalere i valori dell'habitat diffusi nel territorio rispetto a quelli della concentrazione urbana. Allora la prima osservazione che deriva da questa constatazione di uno stato di fatto è che veniamo caricati noi e la nostra generazione, di cui oggettivamente mi sembra siamo interpreti piuttosto confusi, che deve registrare questo cambiamento epocale. La vita del mondo si sta concentrando nelle grandi aree metropolitane, dove di conseguenza la città si connota, al di là dei servizi tecnici e funzionali per la quale era stata proposta, come spazio di vita culturale invece e di eccellenza, uno spazio stratificato che in particolare negli ultimi decenni è stato oggetto di una continua metamorfosi. Questo è l'altro elemento, la città non è più una realtà statica come poteva apparire anche solo qualche decennio fa, apparire perché evidentemente le trasformazioni avvenivano ma in modo talmente lento che nell'arco di una generazione non si notavano le trasformazioni strutturali che la città aveva mutato. Un'altra considerazione che è forse la più bella per parlare anche di bellezza e la più affascinante è che ancora oggi, malgrado tutti i limiti di interpretazione che noi abbiamo, la città si configura come la forma sociale di aggregazione più evoluta, più intelligente, più flessibile, più bella che l'umanità abbia saputo configurare nel tempo. Noi non conosciamo altra forma di vita sociale, di aggregazione sociale talmente performante come in generale il modello della città dal neolitico su su fino ai nostri giorni è riuscito a configurare. Non è stato ancora creato questo altro modello per cui noi agiamo all'interno di questa storia millenaria cercando di risolvere le contraddizioni che via via il progresso, l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione delle intelligenze anche ci ha portato. Ma resta di fatto che noi non conosciamo altro modello. In particolare mi riferisco alla città europea. Altro discorso sarebbe sulla città americana o sulla città asiatica dove evidentemente il modello di città è meno performante di quello che la cultura occidentale ha formato. Allora io credo che come architetti siamo chiamati ora nella contemporaneità a a scrutare forse più di altri intellettuali, di altre personalità interessate che non hanno però il territorio fisico di riferimento come noi abbiamo, a cercare di comprendere questo fatto della città, questa bellezza della città e per far sì che i valori che avevamo intuito e che qualche volta avevamo anche assaporato nella storia della città possono anche ripresentarsi anche all'interno delle contraddizioni della contemporaneità. Allora un ragionamento che sta maturando in una fascia sempre più vasta credo di operatori è che il territorio della memoria sia un territorio sempre più prezioso, ma attenzione non un territorio nostalgico, la memoria come nutrimento, la memoria come creatività, la memoria come i grandi creativi l'hanno sempre interpretato. Io ho avuto la fortuna anche di incontrare di persona dei grandi creativi erano attenti al grande passato, mai nessuno mi ha parlato del futuro. I veri creativi, pensiamo a Picasso, pensiamo alla sua straordinaria creatività nel momento in cui riprende gli archetipi primitivi o quelli di un'esperienza, c'è una mostra straordinaria in questo momento a Roma del suo viaggio al Mediterraneo e riconosce nell'area del Mediterraneo dei valori che gli fanno cambiare il suo modo di vedere, il suo modo di dipingere. Oppure Henry Moore, oppure Giacometti, il bisogno di avere nel grande passato degli anticorpi per resistere alle lusinghe del contemporaneo, alle lusinghe del presente. Allora il territorio della memoria è il vero territorio sul quale siamo chiamati a lavorare. In quest'ottica è evidente che i modelli della convivenza sociale, al di là delle conquiste apparentemente legate al progresso senza fine, mostrino sempre più i limiti di risposte unicamente tecniche o di servizio, a scapito di parametri dell'abitare dove era possibile riconoscere valori simbolici e metaforici che ci aiutavano ad affrontare le fatiche del vivere quotidiano. Un altro aspetto, e qui è un terzo elemento che volevo citare, mi sono fatto qualche appunto, è la riflessione che ci chiama a interpretare i cambiamenti che la nostra generazione sta vivendo che toccano alcune permanenze che la città aveva continuamente invece proposto nella sua storia. Sono permanenze che erano resistite nel tempo, erano resistite al di là dei cambiamenti politici, economici, sociali, alle guerre, alle catastrofi naturali, al cambiamento del vivere quotidiano. E allora la città, da questo punto di vista, facendo una grande sintesi, ma per capire anche il tipo di ragionamento, sta perdendo due valori che erano delle costanti. Tutte le città del mondo, declinate nelle varie geografie, immaginate le città che si incontravano su un fiume, si incontravano sulle vie di comunicazione, si incontravano a mare, si incontravano in montagna, vi era sempre la città. Quindi declinata in tutte le geografie possibili. E questa città, nella storia che noi conosciamo, aveva due costanti. La città ha sempre avuto un centro e la città ha sempre avuto un limite. Non esiste città senza una centralità, che era anche la storia, la memoria delle origini. Da quando è nata, la città ha sempre avuto un limite. Un limite che diceva che dentro quel territorio vi erano dei diritti, vi era la cittadinanza e fuori vi erano le barbarie, vi erano gli avventurieri, vi era altro, vi era la campagna, vi era il territorio che era altro. Queste due componenti, in questo nostro tempo, in questa nostra generazione, sono tutti in crisi. La città sta perdendo l'idea di un proprio centro, ci sono più centri, centro commerciale, centro religioso, centro sportivo, centro amministrativo, ma sta perdendo la nozione di centro e soprattutto sta perdendo la nozione di limite. La città diffusa ha rovesciato il parametro di una separazione chiara tra l'esterno e l'interno della città. Ecco, io credo che la nostra generazione deve fare i conti con questi cambiamenti. Allora adesso, molto velocemente, vorrei mostrarvi alcune immagini, poiché io ho incontrato sul mio lavoro queste città, molto velocemente. Questa è, devo guardarla qua, Modena. Modena è una città straordinaria, la vedete nella sua compattezza della città storica, più la città ottocentesca e novecentesca al di fuori delle mura, che risale in una maniera evidentissima in questo schema, dove si vede il cardo e il decumano e la centralità che corrispondeva alla piazza della cattedrale, e aveva un suo limite. Oppure, questa è Parma, ritorna, malgrado le sfrangiature che vi siano all'esterno, una condizione che talvolta aveva una centralità come questa, che è tutto il complesso della pilota, e quindi non vi era di per sé la chiesa o il palazzo amministrativo, ma vi era un insieme che ha generato una nuova centralità che fa di questo insieme monumentale, che ha un fascino straordinario, perché proprio il suo carattere di non finito è l'elemento che connota questa centralità. Questo per farvi vedere come anche in città appunto declinate in maniera diversa vi sia sempre questa costante. Venezia, che qui vediamo in una stampa di Jacopo de Barbari del 1500, è praticamente restata immutata, perché è salvata, vorrei dire, dall'acqua che gli sta attorno. È la laguna che ha bloccato in un certo senso la parte di ingresso delle isole, del tronchetto, dove ci sono gli attuali parcheggi. La città è rimasta immutata, ma perché era fuori dal territorio, le mura erano là, era l'acqua stessa che la contornava. Treviso, un altro lavoro interessante che ho fatto su un'area della Exa Piani, che è quella indicazione rossa che vedete, che è già fuori le mura, che è già fuori nel contesto novecentesco, questo sviluppo dalle mura e dai canali che vedete in basso sulla destra, vi era già lo sviluppo successivo novecentesco, e poi in questo caso io avevo questa immagine perché ero stato chiamato a questo intervento un po' particolare, un po' unico, dato anche da una committenza pubblica che ha voluto, là dove vi era una vecchia fabbrica, fare una nuova piazza delle istituzioni, portando la Camera di Commercio, la Prefettura, gli uffici delle entrate che erano disperse nella città, e ha creato questa nuova piazza con il parcheggio 2000 posti auto sotto e una nuova urbanità, ma all'interno, là dove vi era già un tessuto novecentesco. e Milano, per mostrarvi stavolta parto dal centro, vedete la configurazione dei vuoti, che si legge abbastanza bene, dei bastioni, al centro ovviamente vi era il Duomo, sulla sinistra in alto il castello, il parco, e qui lo vediamo che sta crescendo, una città metropolitana, quindi vi era più interessi, più spinta, più urbanizzazione, e l'attuale urbanizzazione si è estesa al punto tale che Como, Mendrisio, Lugano possono essere realmente considerati periferia di Milano. L'area metropolitana è aggiunta alle prealpi, è aggiunta sulle alture a nord di Milano e quindi creano una nuova condizione urbana della quale anche noi dobbiamo, o dobbiamo, o comunque, nel bene o nel male, dobbiamo renderci conti che siamo parte di questa nuova realtà metropolitana. a nord di Milano a nord di Milano a nord di Milano a nord di Milano a nord di Milano